Nove misure cautelari di cui sei arresti in carcere e tre divieti di dimora in provincia di Salerno sono state eseguite ieri dai carabinieri della Compagnia di Battipaglia al termine di indagini su furti in aziende della provincia di Salerno e zone limitrofe nel periodo tra febbraio e novembre del 2018. I provvedimenti firmati dal GIP del Tribunale di Salerno sono stati eseguiti nei comuni di Napoli, Arzano, Carinola, Villa Literno e Affoggia. I nove indagati sono tutti di nazionalità rumena e già con precedenti specifici. Le accuse nei loro confronti sono di concorso in furto pluriaggravato e tentato furto aggravato in concorso. Tre di loro sono al momento irreperibili. La banda è responsabile di 25 furti compiuti in aziende di Battipaglia, Monte Corvino Pugliano, Ponte Cagnano Faiano e Tito. Secondo le indagini dei militari dell'arma coordinati dalla procura di Salerno, gli indagati agivano di notte a viso scoperto non curanti dei sistemi di allarme e videosorveglianza presenti nelle aziende colpite. L'attività di indagine è stata svolta attraverso l'analisi di una notevole mole di tabulati di traffico telefonico, lo studio delle immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza e dagli impianti di videosorveglianza pubblica, l'acquisizione di immagini e di documentazione relativa ai transiti autostradali dei veicoli utilizzati per compiere furti. Sono risultati di aiuto alle indagini anche ai profili social. La banda è ritenuta responsabile di furti e tentati furti per un danno complessivo di oltre 250.000 euro.